Romagna mia, Romagna è il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alta solare. Romagna, Romagna mia, lontana d'è non si può stare. Ma è un intenso momento insieme, insieme alle notte allegre della nostra musica ovviamente. Vi ricordo che questo è un programma, questo programma è un prodotto dell'edizione musicale Casa Dei Sonora. Qui Romagna in collegamento siete con questo circuito 100 TV. Per sapere qual è l'emittente della vostra zona basta andare sui nostri social, sul nostro sito ufficiale casadeisonora.it e trovate l'elenco delle nostre TV che fanno parte della nostra family, naturalmente con i canali, le zone di copertura e quant'altro. Se avete qualche dubbio basta semplicemente telefonarci allo 0541945259 e vi togliete se avete qualche domandina da farci. Un saluto, a noi fa sempre molto molto piacere. Allora, io intanto ringrazio Dardar in Multimedia, anche oltre a tutte le emittenti che insomma giorno dopo giorno ci trasmettono. Ringrazio voi, Sindora, per essere in collegamento con noi. Partiamo subito. Oggi ho un sacco di cose da ricordare. Intanto mi è arrivato un simpaticissimo videoclip che ve lo voglio proprio regalare. E' un'anteprima, l'ho postato qualche giorno fa, ma è un'anteprima televisiva, per cui è una romagna mia, una rienterpretazione di questi ragazzi veramente fantastici. I musicanti di San Crespino, una band di ottoni veramente fotonica. Sono molto grintosi, molto preparati, hanno un'energia veramente, sono certa che vi coinvolgeranno. Poi, vabbè, in questa occasione hanno rienterpretato a loro modo Romagna mia, Romagna nostra. Loro l'hanno fatta loro, ovviamente, come ognuno giustamente deve fare. E poi, insomma, partiamo subito anche col ringraziare la bottega Pascucci, perché mi è arrivato da Riccardo. Riccardo è veramente fantastico amico, lui è un grande artista in tutti i sensi. Mi è arrivata questa mascherina fantastica con le parole di Romagna mia, queste sono stampe, ovviamente, proprio fatte a mano. E questa bandana, che è una cosa simpaticissima, io la volevo fare vedere perché è veramente molto originale. E poi, comunque, trovate, basta digitare Bottega Pascucci e vi viene fuori subito il loro sito con tutte le loro creature. Io le chiamo così perché sono veramente bellissime. Andiamo in musica perché, insomma, la fa da protagonista. Abbiamo detto, nella prima parte, protagonisti musicanti di San Crespino con la loro Romagna mia. E poi abbiamo dato spazio al ballo, perché non può mancare. In questo caso, tratto dalla serata a balè a balè, queste due giornate intense dedicate alle scuole di ballo, in questo caso abbiamo estrappolato e abbiamo omaggiato, insomma, la Mauriz Club, il gruppo Mauriz Club. Intanto vi lascio in buona compagnia, insomma, noi poi ci ritroviamo più tardi per concludere la nostra giornata insieme a tutti voi. E ciao Bordale! 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 Sento la nostalgia del passato Dove la mamma mia ho lasciato Non ti potrò scordar, casetta mia In questa notte stellata, la mia serenata Io canto per te Ehi, 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 ehi! And Clintonlla O basera, tanto monetizzato, casetta mia, ehi, dei suoi ehi, è, ehi, disobedienti, bourre fancy, ehi, sono erano 특 summer... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.